eccoci qui ragazzi ho una nuova serie che è quella la natalizia di Sonic 10 gioco dove avevo parlato qui se ne entro ok iniziamo si inizia a sclerare perché è un gioco sclerante bellino però che ci sono i livelli proprio di musica normalmente è più di qua qui c'è il famoso famoso quella cosa dell'invigibilità l'oggetto dell'invigibilità come raccogli raccogli perché non riesco a parlare perché se parlo piano piano e pepe sono le dissona sono le medinotte sono le dissona non ci sono le dissona sicuramente raccolti a meno 50 anni è possibile accedere al special 6 ok comunque sto giocando dal demulatore quindi il nebulatore vi permette di salvare con... di usare i servostate ok, in livea di sicurezza quindi... è per... non vado a traguardo adesso vuole ricominciare dall'ultimo servostetto ok la magia dell'emulatore che ti permette di fare ecco il primo smerando del caos sono i ring bonus cioè gli adagnani di bonus quindi la cosiddetta nella parte possibile e che non continua ok, il primo smerando del caos insomma i primi livelli sono facili man mano che diventa più difficile portiamo la velocità della luce quindi non ho petito il potere sta miseria ma... una tipa ottare anche la miseria di... cosa no? si aspiro... ho individuato lo spiro e lo spiro lo spiro lo spiro rendo intrito poi ci risalbero i rematch di tutti per un po' di attivamento per un po' di attivamento ecco qua diventi piuttosto facile perfetto secondo livello completo Questa è un emulatore di tablet che mi permette di usare, ok, esiste proprio le collection tipo per console, non so se esiste proprio una collection di Sonic e PlayStation 4, tipo la collection dei giochi della Fina Mega Drive, beh, non arrivare proprio subito a traguardo, e nononoono, qui sono otto, il miracolo del caos, in tutto dovrebbe essere fail. Non è tutto facile. E poi a mezzo livello c'è ogni livello, in ogni livello c'è altre attore, non so come si dice. No, 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 no... No, no, no... No, 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 no... Sì, è vero! Ah! Sì, è vero! Sì! 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 Sì, è vero! Sì, è vero! Sì, è vero! Oh, l'ho rischiato di grosso! Minchia! Sto pata sudando! E' nel senso a malizio! Man mano! Siamo arrivati a livelli piuttosti! Dottor Robotnik! Le lenti serie dei videogiochi hanno fatto la storia nella sede a me la drive! Siamo massississimi! Qui andiamo con il Dottor Robotnik, noi proprio il Dottor Eggman! E' un'altra cosa! E' un'altra cosa! Come la luto sui schiette! Ok, vediamo... Vabbè! Da un altro livello e poi... Ci vediamo a colpo! Dai! Però ho fatto pure delle partite di Progo! E' giusto per... Prenderci un poco la mano... Prenderci un poco la mano... Si partono... E' bell' democratico! Oh, che ruolo! Un desimo che...eh! Non sarei attenti a Valaro. Ha risposto di perdere gli anelli. Poi dopo persi gli anelli. Si perde la vita. C'è un trappozzo. Oh, belle proprio queste musichette. Belle proprio... Belle proprio orecchiabili. Ok, no. Ok, l'ho rischiato qua. Io l'ho rischiato. Guardatevi nella lava. Ok, ah, giusto 50 gemmi del culo. Eh, ok, ragazzi. Vabbè, special stage. Vabbè, ma prossimo episodio di questa miniserie. Ok, ragazzi. Siamo arrivati a tutto. E alla prossima. Ciao!